Un saluto dal Tg della mobilità smog, oltre i limiti il Campidoglio ha adottato provvedimenti emergenziali di limitazione per i veicoli più inquinanti dopo i provvedimenti del 30 e 31 dicembre, anche domani lunedì 2 gennaio sarà vietata la circolazione di alcune categorie di veicoli nella fascia verde, divieto di circolazione nella fascia verde quindi domani dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Il provvedimento riguarda auto e benzina Euro 3, auto diesel Euro 4, minicar diesel Euro 2. Il provvedimento emergenziale si aggiunge a quelli permanenti in vigore sempre nella fascia verde dal lunedì al sabato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.